In Terra Santa cominciano le celebrazioni, noi andiamo a Betlemme, in diretta c'è il nostro corrispondente Giancarlo Gioielli. Il patriarca latino Monsignor Pizzaballa è arrivato a Betlemme, la città dove è nato Gesù, 1600 persone ad attenderlo nella piazza, una piazza che normalmente ospita decine di migliaia di fedeli per Natale. Sono le restrizioni imposte dal Covid in una città che vive di turismo religioso. Il patriarca celebrerà la messa di mezzanotte e poi scenderà nella grotta del Mangiatoio, la grotta dove una grande stella d'argento segna il punto dove è nato Gesù, dove i pastori lo hanno adorato. Ma sentiamo cosa ci ha detto Monsignor Pizzaballa alla sua riva a Betlemme. Poi la linea può tornare a Roma. Il mio messaggio è che a Natale noi celebriamo la speranza che diventa una certezza. Noi siamo sicuri, siamo certi che quel bambino continuerà a portare gioia in tante famiglie e in tutto il mondo. Ne abbiamo bisogno qui interessante in tutto il mondo. Buon Natale a tutti. Nel Regno Unito c'è attesa per il tradizionale pezzato. Nel Regno Unito c'è attesa per il tradizionale pezzato.